ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video un video di nail art su tip e andremo ad realizzare una nail art cartoon andremo a fare bugs bunny il coniglietto allora adesso vi faccio vedere i colori che ci servono allora ci servirà io uso questo qui poetico che classiche c 104 che è un grigio il pur white fast f 01 poison black fast f 16 trinidad che è un rosa che il p05 questa della collezione caribe che mi pare che adesso se non era sposte non ci sta né più sta collezione caribe credo è non lo so scusate non mi pare di averle visti e niente servirà solo questi quattro colori cominciamo subito io vi lascio al tutorial e ci vediamo a fine ciao a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.